Ben trovati, un buon inizio di giornata dalla redazione e un saluto a tutti voi, anche da parte mia. Con la prima notizia della giornata ci occupiamo dell'andamento del Covid in rapporto al bollettino diramato nella serata di ieri dall'Asrem. Ci sono ancora 5 decessi, tra i quali un uomo di 44 anni di Isernia. Poi la curva del contagio con il rapporto che scende al 5%, a meno del 5% in relazione ai tamponi processati, sale anche il numero dei vaccini. Tutto il quadro nel servizio di Anna Maria Di Matteo. È pesantissimo il bilancio dell'ultimo bollettino Asrem. Cinque vittime, sette nuove ricoveri in malattie infettive. Tra le persone decedute c'è anche un uomo di 44 anni di Isernia ricoverato in malattie infettive. Le altre vittime, una donna di 66 anni di Termoli ricoverati in terapia intensiva, un 73enne oppure lui di Termoli, una 89enne di Campobasso, tutti ricoverati in malattie infettive ed una 91enne di Sant'Elena Sannita, deceduta nell'area grigia medicina d'urgenza del Cardarelli. 17 nuovi positivi sui 362 tamponi processati per un tasso di positività del 4,7%. Tre casi a Campobasso, Frosolone, Ripali, Mosani, un nuovo positivo negli altri otto comuni interessati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 1.100, gli asintomatici a domicilio 1.025. I pazienti ricoverati sono 71, di cui 62 in malattie infettive e 9 in terapia intensive. I pazienti deceduti dall'inizio della pandemia salgono a 238, mentre le persone guarite sono a 6.266. Intanto vanno avanti le vaccinazioni, salita a 6.415. Andiamo in Consiglio regionale, dove la capogruppo del Partito Democratico, Micaela Fanelli, ha scritto all'autorità anticorruzione in relazione all'appalto di manutenzione degli ospedali. Secondo la Fanelli sono state penalizzate le imprese molisane, ma sentiamo i particolari nel servizio di Pasquale Di Bello. Micaela Fanelli, capogruppo del Partito Democratico in regione, ha inoltrato una propria segnalazione all'ANAC, l'autorità anticorruzione. Nella nota Fanelli chiede di fare piena luce su un appalto da 46 milioni di euro affidato dall'Asrem ad un'azienda francese, la Siram, con sede principale a Napoli. Oggetto dell'appalto, la manutenzione e fornitura dei servizi energetici e tecnologici degli ospedali e poliambulatori del Molise. Micaela Fanelli chiede chiarimenti sulla procedura adottata dall'azienda sanitaria regionale che ha operato attraverso la CONSIP, ovvero attraverso la centrale acquisti della pubblica amministrazione gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in pratica dal Governo nazionale. L'esponente del PD chiede che venga verificata la regolarità del procedimento adottato dall'Asrem, poiché, scrive Fanelli, era già stata espletata nel 2018 in Regione, una precedente gara, questa volta facendo ricorso alla centrale unica di committenza regionale. Gara, va precisato per la cronaca, i cui esiti non si sono mai conosciuti né risulta che sia stata effettivamente portata a conclusione. Un aspetto che la stessa Fanelli, nel suo ricorso all'ANAC, chiede che venga vagliato e che venga effettivamente verificato se quella gara, prima di procedere alla nuova, sia stata annullata o meno. Quello che sempre l'esponente del PD contesta all'azienda sanitaria è una carenza di motivazione rispetto all'adozione della procedura adottata nell'affidare il servizio alla Siram per i prossimi 5 anni, scrive Fanelli, l'Asrem ha assunto alla base della propria decisione un presunto risparmio di appena il 4%, un risparmio, scrive la capogruppo PD, non documentato. Da qui la richiesta di chiarimenti funzionale anche ad una tutela delle imprese molisane penalizzate dalla scelta effettuata a favore di un'impresa di dimensioni ultranazionali. Dovremmo pensare alle cose concrete che riguardano la sanità, dice Fanelli, stigmatizzando quella che definisce l'inutile e pericolosa prova muscolare tra il presidente della regione Toma e il commissario alla sanità, Giustini da quest'ultimo va evidenziato sempre per dovere di cronaca, i molisani attendono un chiarimento sul giallo delle dimissioni che al Ministero della Salute nessuno ha mai visto, ci sono o non ci sono. Dalla politica fatto singolare nessuno ha posto l'interrogativo a Giustini. Per il Tg ci fermiamo qui, diamo ora uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo in edicola oggi con la rassegna stampa. Partiamo dal giornale del Molise.it, Covid, bilancio pesante, 5 vittime, 7 ricoveri, 17 nuovi positivi su 362 tamponi. Poi il rientro in classe all'insegna delle polemiche, l'UDS, l'Unione degli studenti, autobus affollati, il sindaco di Campobasso, nessun problema sui bus per i vaccini. Il Molise punta a cominciare la somministrazione agli ultraottantenni entro metà febbraio. Poi per il dissesto al Molise quasi 3 milioni e 400 mila euro. Per il deputato 5 Stelle Federico, i fondi dal Ministero dell'Ambiente. Su futuro Molise, Covid, more un 44enne di Isernia già affetto da patologie pregresse. L'ATM e i sindacati sospesi per due giorni i lavoratori che hanno chiesto di poter lavorare in sicurezza. Un anziano di Campobasso in difficoltà. I carabinieri recuperano i presidi sanitari a tempo di record. Per il rientro a scuola, gravina situazione tranquilla per il trasporto urbano. Siamo ai giornali locali. Con primo piano, la strage è silenziosa, altri 5 morti, tra cui un 44enne e una donna di 66 anni, mai così alta la pressione sul Cardarelli. 62 pazienti in area medica, 9 in rianimazione, ieri 7 ricoveri processati, 362 tamponi, 17 positivi e un guarito. Il reparto di medicina ha accertati 4 nuovi contagi. Intanto i medici proclamano lo stato di agitazione. Nel taglio centrale, la foto di un autobus pieno. Ritorno a scuola. A Campobasso molte aule vuote. A termoli, navette affollate. Nel capoluogo, gli studenti disertano per protesta. Caos trasporti sulla costa. Niente corse aggiuntive. Nel cassettone, si parla di crisi di governo, con Bregantini alla stampa, che dice deluso dalle scelte di Renzi, urgono soluzioni, serve un partito cattolico. Antonio Federico in aula, ora un esecutivo forte e credibile per ripartire dal recovery plan. Sull'inquinamento vertice con i comuni della Valle e l'attestamento sollecita la Procura a che punto sono le indagini. vediamo il richiamo di Sport. Matt Rizzetta avrò quote di minoranza con un'opzione fino al 49% la notizia riguarda la società del Campobasso. La crisi di governo sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Cominciamo dal Corriere della Sera. Primo sì, Conte alla sfida finale. Maggioranza assoluta alla Camera. Oggi la prova più difficile del Senato. Zingaretti, la strada è strettissima. La novità è la Polverini, ex governatore, governatrice della Regione Lazio. Polverini tra i volenterosi. Poi siamo a 155, dicono quelli del centrosinistra, al Senato. In aula tra Corri e Preghiere. La nuova partita dell'intelligence. C'è anche questo sullo sfondo della crisi di governo. E poi onda umana preme verso gli Stati Uniti. Il confine con l'Honduras. Però i migranti sono stati fermati a bastonate in Guatemala. Andiamo sulla prima pagina della Repubblica. Conte una sfida fragile. La definisce il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Il Premier chiude a Renzi e incassa 321 voti alla Camera. Alcuni in più rispetto a quelli previsti. Ma la prova della verità è oggi in Senato, dove la maggioranza è risicata. Si sa già che non si raggiungerà il numero fatidico di 161. Ma staremo a vedere che cosa accadrà nel discorso. L'appello ai volenterosi è tre promesse. Patto di legislatura proporzionale e nomina di un'autorità delegata sugli 007. Questo è il riferimento all'intelligence che abbiamo letto sul Corriere della Sera. Gentiloni sul recovery plan. Va rafforzato il commissario dell'Unione Europea. L'Italia deve accelerare. Nel taglio centrale Repubblica rimane a casa nostra con la protesta degli studenti a Roma. Scuola divisi anche gli studenti. Alcuni hanno manifestato. Il grosso è entrato in classe, come abbiamo visto, anche in Molise. Qualche manifestazione c'è stata sul web, ma insomma si è trattato di episodi sporadici. Vediamo il fatto quotidiano. Rensichi, il titolo chiaramente ironico, Conte lo ignora, chiede aiuto e ottiene un ampio margine. Oggi la mina Senato, volenterosi con noi, promette la legge promozionale e prende 321 sì e 259 no. I senatori con lui fra 154 e 355 e poi arriveranno ex Forza Italia e Udc. Insomma è un po' questo il piano del Presidente del Consiglio, quello di incassare una maggioranza relativa al Senato e di lavorare in prospettiva con i transfughi e quelli che guardano al centro in sostanza. L'audace colpo di Rosato, andiamo a vedere, alzare la paga ai deputati. Rosalto è uno dei big di Italia Viva, il coordinatore vuole tornare al passato. Turbo Renziano lo definisce tra l'altro l'autore della legge elettorale attuale, il famoso Rosatellum che prende il nome proprio da lui. Fermiamo il blocco degli aumenti del 2022, così il prossimo anno potrebbe essere cancellati i tagli decisi nel 2011, 15 mila euro invece di 10 mila al mese e sarebbe insomma una bella vita e già lo è abbastanza, aggiungiamo noi. Andiamo a vedere i giornali locali con il quotidiano di Roma, il tempo che ricorda una specie di saluto fascista, ma in realtà è una foto presa, non crediamo che la Polverini, ex sindacalista, ma insomma donna di destra sì, ma non a questi livelli, con il saluto romano. Un premier sulle stampelle, alla Camera il governicchio ce la fa ottenendo 321 voti, una vecchia etichetta degli anni della Prima Repubblica, i governicchi, a Palazzo Madama rischia, il Presidente del Consiglio crede troppo in se stesso e riesce a vedere solo successi, esagera sui ristori e lo fischiano, Giuseppi Record da Camaleonte, rinnega Trump e sposa Biden. sul mattino invece quotidiano di Napoli, anche qui si parla chiaramente di Conte in bilico e di sfida al Senato, abbiamo visto la notizia, andiamo a vedere però poi una notizia locale che è la vittoria di Procida, capitale della cultura, simbolo della rinascita e riconoscimento del 2022, ricorderete a questa competizione aveva partecipato nella prima fase anche Isernia, esclusa poi dalle dieci finaliste, la piccola isola della poesia batte i grandi centri e dunque quest'isola davanti a Napoli, attaccata molto vicina a Ischia, sarà la capitale della cultura 2022, subentra a Parma. Andiamo su Libero, quotidiano di riferimento del centrodestra ma della Lega in particolare, non sa comprare vaccini però chiede la fiducia, Conte cerca Stampelle, è il titolo riepilogo pastone diciamo così del giornale I Feltri, il governo si rovina da solo visto il record di morti per Covid e le incapacità di fare le iniezioni, Giuseppe alla Camera fa appello ai Voltagabani, aiutatemi, oggi voto decisivo al Senato, Meloni che mercimonio, mi vergogno, la Lega urla di missioni, è insomma un po' quello che è successo ieri a Montecitorio e nel taglio centrale ci sono due fotografie, una riguarda Liliana Segre che ieri è andata a votare la fiducia alla Camera, facendo anche un commento insomma durissimo all'indirizzo di chi ha provocato questa crisi, Biden invece si è rubato le fiale degli italiani con l'aiuto della Germania, insomma un riferimento polemico sui vaccini. Restiamo ai giornali della destra con Fratelli d'Italia e l'organo di partito Il Secolo, da sovranista a europeista, Meloni quanto vale la parola di Conte, Conte sovranista è questo, insomma quello che accadeva il 26 settembre del 2018, il riferimento è chiaramente al governo con Fratelli d'Italia e la Lega, quando il Movimento 5 Stelle si alleò con Salvini e Meloni. La stampa, l'appello di Conte aiutateci, titola il giornale di Giannini, il Premier chiede il voto dei volenterosi, se passa la fiducia rimpasto entro fine anno, alla Camera il governo trova la maggioranza, oggi la conta decisiva al Senato e nel taglio centrale la Lombardia più vaccini alle regioni ricche, la richiesta di Moratti ad Arcuri, Speranza, la salute e diritto di tutti, un esordio insomma con una scivolata da parte di Letizia Brichetto, sposata Moratti, già ministro, sindaco, presidente Rai, chi più ne ha più ne metta, sempre per il centrodestra naturalmente. Andiamo a vedere il quotidiano comunista, il manifesto, buona la prima, titola il giornale con 321 voti, insomma Conte ottiene la fiducia alla Camera, Polverini dice sì e lascia Forza Italia, due Renziani si staccano da Italia viva, il Premier pensando alla prova di oggi al Senato lancia l'appello ai volenterosi senza sarà difficile governare, secondo titolo è sui vaccini, Pfizer ritarda ancora Arcuri furioso, Moratti vaccini in base al PIL ma in Lombardia non torna la conta dei positivi, questo è davvero imbarazzante, consentitelo questo commento, non so come è chiaramente la pensiate ma vaccinare in base al reddito non mi pare proprio una uscita felicissima. Avvenire, primo sì volenteroso, titolo sintetico ma azzeccato del quotidiano nella conferenza episcopale, Conte ottiene la maggioranza alla Camera, si volta pagina per l'Europa e con Biden oggi esami decisivo al Senato, Renzi si asterrà, l'Udc conferma il no, Zingaretti, situazione difficile e anche avvenire, titola il taglio centrale come aveva fatto il Corriere della Sera, Guatemala, i migranti pregano in ginocchio, presi abbastonati, abbiamo visto in fuga verso gli Stati Uniti. Andiamo sul Sole 24 Ore che sceglie il recovery da rafforzare, è il richiamo di Gentiloni, questo richiamo dall'Unione Europea, titola il Sole 24 Ore, oggi scontro finale al Senato, l'offerta di Conte agli indecisi, il sistema di voto proporzionale e poi la nuova sfida in Senato e il negoziato con i volenterosi e le cinque forze che calmano titoli di Stato e spread. Chiudiamo come di consueto la rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere che cosa è successo, perché ieri si è giocato il posticipo in Serie A, ma il Milan ha risposto all'Inter battendo 2-0 il Cagliari e l'Inter torna a più 3, mentre il Milan si riprende la vetta della classifica, ma il Re è perché il Cagliari è stato steso da una doppietta di questo signore qua, cioè da Zlatan Ibrahimović, a Pioli basta un punto con l'Atalanta per essere campione d'inverno, Mandzukic avrà la 9, l'acquisto, il neoacquisto rosso-nero ex Juventus, potrebbe giocare il derby di Coppa, Zlatan con lui saremo ancora più competitivi. Nella notizia, diciamo così, nella foto di spalla, Barella d'Italia da Gigi Riva a Mancini, tutti incoronano il soldato di Conte, sarà l'Eurostar, il centrocampista nero-azzurro. Per Pirlo c'è un super rischio, che è quello della Supercoppa, domani in sfida con il Napoli, il tecnico alle prese con un centrocampo in affanno che deve subito rifarsi. Chiudiamo con le due notizie del cassettone, che riguardano sempre il calcio, ma si riferiscono a Nicola, che sederà sulla panchina del Torino al posto dell'esonerato Gian Paolo, il nuovo tecnico ex Crotone e Cagliari, se non ricordo male, e Genoa, dà il via all'operazione risalita. E poi c'è questa curiosità che riguarda Messi, espulso la prima espulsione della carriera con il Barcellona nella Supercoppa della Liga Spagnola con l'Atletico, caccia aperta a Messi, il Paris Saint Germain. Noi ci siamo, dopo il City si fa avanti. Leonardo è ripartito dunque, è ripartita questa asta pazzesca che coinvolge la stella, l'asso, il fuoriclasse argentino, che non ha evidentemente sanato i suoi problemi al Barca. Con questa notizia ci fermiamo per la rassegna stampa di oggi. Vi diamo appuntamento al Tg delle 14. Ringraziamo Massimiliano Chiocchio che è stato con noi oggi in regia. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, dalla redazione da parte mia, l'augurio di una buona giornata.